L'orsetto Fritz è morto allo zoo di Berlino, la causa un'epatite. Aveva quattro mesi e adesso lo piange tutta la Germania. Perfino il braccio destro di Angela Merkel, Peter Altmaier, ha scritto un tweet in sua memoria. L'animale era diventato il beniamino dei piccoli tedeschi, sostituendo l'orso Knut, morto sei anni fa.